Ma al tempo su tutto l'Abruzzo, le piogge incessanti hanno causato emergenze e interventi in diverse località. Ad Atri, nelle prime ore del mattino, una famiglia è stata costretta a lasciare la propria casa per l'improvvisa frana di un terreno antistante la costruzione. Ad intervenire vigili del fuoco e forze dell'ordine. È dovuto ai lavori che stanno facendo al di sopra della mia proprietà. Hanno fatto degli sbancamenti, hanno fatto gli spostamenti notevoli di terreno. Ho potuto capire io che tutta l'acqua che doveva essere buttata a destra e a sinistra dell'abitazione, alla fine è venuta tutta al di sopra di casa mia. Mi mettiamo a dirigire il fuoco perché non riesci a ritracciare altre persone e loro mi hanno fatto evacuare perché per loro la situazione era un po' pericolosa. Un terreno sbancato che ha trascinato fino ai garage dell'abitazione, fango e detriti. Ancora è incerta la durata del maltempo e dunque è impossibile intervenire per la messa in sicurezza dell'area. E invece per poter rientrare a casa che tempi vi hanno dato? A casa non lo so, devono ritornare su, fare i sopralluoghi e poi vedere se possiamo rientrare o meno. È la prima volta che succede una cosa del genere qui? Sì. Sempre nella stessa località alle 8 del mattino blackout improvviso dovuto al crollo di un palo della corrente. è andato successivamente in fiamme. In questo caso ad intervenire, oltre ai vigili del fuoco, anche gli uomini dell'Enel che sono riusciti a ripristinare il servizio elettrico. Sono state le fiamme però, meno male che penso che con la pioggia e tutto quanto non è successo niente, incendi o niente, non sono stati verificati. Poi sono stati messi in sicurezza dall'Enel che sono arrivati prontamente, quindi penso che sia a posto adesso il discorso dell'energia elettrica. Disaggi registrati sempre nel Terramano, a partire dalle nevicate ad alta quota dove frane e smottamenti hanno costretto l'intervento della provincia con la chiusura della provinciale 45B nei pressi del comune di Crognaleto. Una frana aveva isolato le frazioni di Alvi e Santa Croce. Un'ordinanza consente ora il transito solo dalle 7 alle 20. Frane anche a Colle Mesole, analoga situazione a Poggio delle Rose, nei pressi di Cermignano, dove il manto stradale presenta frane in più punti e sulla provinciale per Castelli. dove per alcuni tratti si procede a mezza carreggiata, allerta prolungata fino alle prime ore di domani.